Questa serra andrà di affianchiare delle attività che già svolgiamo presso la struttura del centro di socializzazione al lavoro di Maso Pez, dove ci sono già delle serre produttive di vivaismo biologico e dei laboratori di falegnammeria, assemblaggio e d'altro. Nel 2013 abbiamo seguito 54 ragazzi in percorsi di socializzazione al lavoro, avvicinamento al lavoro, orientamento e formazione. Con questa serra pensiamo che nel 2015 potremo dare opportunità di percorsi temporanei, sempre di avvicinamento al lavoro, a circa 75 ragazzi. Questo è il primo passo concreto di un progetto che avrà altri passi successivi e che offrirà ai giovani nuove opportunità per integrarsi in modo diverso col mondo sociale e del lavoro.